Buongiorno, io sono l'ingegnere Marino, qua da Borgata Costiera, vi descriverò quello che è il piano di sicurezza che abbiamo fatto per quanto riguarda questo evento, codiovate dalla Polizia Municipale. Il nostro piano di sicurezza consiste praticamente nel cerchiare la città dove c'è l'evento per la viabilità per quanto riguarda la possibilità di attraversamento dalla città dall'est all'ovest della nostra Borgata. Il piano consiste in un primo arrivo dalla parte di Manzara 2 con un parcheggio dove l'utenza si parcheggerà le auto, i mezzi di collegamento e si avvierà a piedi verso il centro della Borgata dove incontreranno tutte le casette che ospiteranno la mostra Mercato che è una mostra che articolerà tutto quello che è l'evento della festa del pane e della pasta. Successivamente abbiamo, a seguito di questo evento, preparato un piano sanitario relativo alla sicurezza sanitaria della Borgata in questo periodo. sarà coadjuvato dalla Croce Rossa italiana con una tombolanza stanziale per tutto il periodo della manifestazione con dei operatori a piedi per poter raggiungere tutte le vie della Borgata e poter servire eventuali disagi o malessere degli utenti della Borgata. Oltre a questo c'è da aggiungere che con la collaborazione dei Borgatari pensiamo di poter avere un piano adeguato e un piano sanitario consono a quello che è l'evento in attesa di un numero massiccio di persone. Passo la parola a Francesco Alfre. Passo la parola a Rino Mezzabelle che rappresenta la Polizia Municipale. Sì, buongiorno. Come Polizia Municipale abbiamo preparato un piano di viabilità per questo importante evento dove si prevede che arrivino un ingente numero di persone. Per cui noi consigliamo di arrivare a Borgata Castiera dalla zona Mazzara 2 e dove già, come diceva l'ingegnere, c'è già un parcheggio preparato. Poi per chi dovesse attraversare la Borgata abbiamo preparato una via di fuga che va dalla via Salabaruta fino alla via Cervinia in modo da poter in ogni momento raggiungere la zona dove si sta svolgendo l'evento ed essere sempre pronti a qualsiasi evenenza. Va bene, passo la parola a Ciccio Foggia e qui vanno anche i miei ringraziamenti per l'importante evento che sta creando. Io ti ringrazio per queste meravigliose parole però prima faccio intervenire l'amico Pietro Marino che è uno degli sponsor principali, un'anima importante di questa manifestazione e poi vado a concludere io. Grazie Francesco. Come vedete stamattina la festa del pane alla pasta ha donato grazie a un'altra impresa, una meravigliosa impresa della ditta di Salvo un defibrillatore a Borgata Castiera. Già ne abbiamo donate come la festa del pane alla pasta ripeto a altre, qualche mese fa, a delle associazioni sportive speriamo che non vengano mai usate però se ci fosse bisogno sono qui presente anche in Borgata Castiera questo per dire che noi imprese, tutte comprese il sottoscritto abbiamo ultimato tutti i lavori come potete vedere dietro le mie spalle la scritta Borgata Castiera che è stata un'opera voluta fortemente dalla festa del pane alla pasta di Francesco Foggia e noi siamo stati coloro uguale insieme a Gerry Bianco a collocarla come sempre e a preparare tutti i lavori per questi bellissimi murales tutto pronto, tutto organizzato, siamo pronti per la partenza il parco, tutto quello che c'era di bisogno Francesco noi imprese, tutti, io in qualità del rappresentante perché non sono solo io e non voglio prendere meriti esclusivi io sono in rappresentanza di tutti gli sponsor che ringrazio uno ad uno perché veramente hanno dato un grandissimo contributo alla città di Mazzara del Vallo e soprattutto alla Borgata Costiera ma soprattutto alla festa del pane alla pasta noi ci siamo, ringraziamo tutti compreso anche noi stessi grazie Francesco, grazie Borgata Costiera grazie Lunac e grazie alla festa del pane alla pasta con Francesco Foggia per quanto riguarda quello che ha detto Pietro Marino relativo al kit salvavita che è stato donato alla scuola elementare di Borgata Costiera non è solamente ad utilizzo della scuola elementare ma ben sia a tutta la comunità ed è perenne, rimarrà qua 365 giorni l'anno non sarà periodico solamente per la festività è una donazione perenne per la Borgata Costiera grazie grazie, grazie iniziamo direttamente da questa scritta che inneggia sul muro di Borgata Costiera direttamente da Piazza del Popolo proprio Borgata Costiera come senso di appartenenza di orgoglio di essere borgheggiani borgheggiani significa essere anche mazzarese spesso e volentieri ci dimentichiamo che Borgata Costiera è un borgo che appartiene alla città di Mazzara del Vallo di cui io in questi anni ci ho posato il cuore ecco perché ci siamo innamorati di questo territorio che c'è una civiltà contadina che regna sovrana parto dal presupposto che oggi siamo qui a lanciare la festa del pane e la pasta ma per lanciare questa festa del pane e la pasta e presentarla c'è stato bisogno di un collante un'unione tra il pubblico quindi tra la regione Sicilia tra l'Assemblea regionale e le autorizzazioni del Comune di Mazzara del Vallo e soprattutto tutte le imprese e le aziende che hanno donato delle somme economiche per cercare di regalare questo meraviglioso spettacolo e parlo di spettacolo perché dopo tanti anni di pandemia questo evento torna dopo quattro anni a fare brillare questo borgo questo meraviglioso borgo e lo facciamo grazie anche all'istituzione ma anche grazie alla polizia municipale all'ingegnere marino alle aziende come Pietro Marino OVS Giaconia Visirra e chi più ne ha più ne metta ai fratelli Contorno Poiatti Gallo aziende comunque e se ne ha dimenticato qualcuno chiedo scusa ma siete in tanti e se siete tutti questi vuol dire che c'è molta attesa soprattutto molta credibilità e si crede in questo progetto di promuovere questo territorio ormai siamo arrivati ci sono stati 7-8 mesi di lavoro importante domani sarà finalmente festa del pane e della pasta ci sarà il premio internazionale della suona d'oro e il premio della dimensione del tempo io non mi va c'è qualcun'occasione per ringraziare tutte quelle persone che si sono adoperati quindi parlo dagli artisti dallo street art che sono stati coadiuvati dall'eccellente Gerry Bianco che ha realizzato questo meraviglioso murales ringrazio la PM Costruzioni che ha permesso di rendere diciamo queste pareti disegnabili ecco si potrebbero realizzare questi murales ringrazio il comitato di Borgata Costiera che ha realizzato il pane devozionale di San Giuseppe ringrazio tutte quelle persone che si sono comunque innamorate di questo luogo perché tutti gli slogan sui facebook sui social degli artisti hanno fatto capire che Borgata Costiera è un luogo meraviglioso magico domani iniziamo iniziamo subito con il presentatore uno che rappresenta la sicilianità l'eccellenza e parliamo di Salvo la Rosa abbiamo il top dei presentatori che offre la Sicilia abbiamo pensato di avere il miglior cabaret della Sicilia infatti abbiamo il grande Litterio domani debutteremo con lui ma il secondo giorno ci siamo superati portando uno dei comici penso che sono più brillanti del panorama nazionale che è Uccio De Santis il terzo giorno chiuderemo con Toti e Totino ma soprattutto con il piro musicale che illuminerà i cieli di Borgata Costiera in queste tre giorni ci saranno diverse scuole di danza scuole di ballo che si esibiranno ma soprattutto ci saranno figure importanti del mondo dello spettacolo della cultura e del panorama politico che saranno insegnate nel primo suono d'oro e nel primo alla dimensione del tempo ecco vedete abbiamo cercato di curare i particolari naturalmente i particolari non si curano da solo per quanto riguarda la viabilità ci ha pensato la polizia municipale per quanto riguarda la certificazione del piano di emergenza per l'avocazione abbiamo avuto il top l'ingegnere marino e per tante altre cose c'è il mondo del volontariato l'UNAC è un'associazione che ormai diciamo che si è imposta nel territorio grazie al primo modo di fare volontariato con la V maiuscola e organizza questo evento in maniera importante eccellente mentre che io magari qua sto parlando loro sono lì per spostare le transenne sistemare le sedie questo significa fare volontariato io spesso dico sempre alle persone che criticano dateci anche una mano abbiamo bisogno anche di voi noi accettiamo le critiche affinché poi dimostrate di essere superiore a noi che sia chiaro perché criticare il rimanente a casa è molto semplice sicuramente qualche errore lo commetteremo anche quest'anno ma chi fa sbaglia carissimo Renzo chi non fa mai niente non sbaglia mai e noi preferiamo sbagliare ma soprattutto fare quest'anno abbiamo raggiunto l'eccellenza abbiamo attività commerciali, imprese, aziende che arrivano ad ogni parte dell'Italia abbiamo la famiglia chiusa che è un centragicolo di Parma che portano il prosciutto, il parmigiano i salumi dell'Emilia Romagna abbiamo il Molino Naldoni ci sarà la famiglia contorno da Palermo con le sue caponate diciamo che c'è l'eccellenza dell'agroalimentare tutto ciò perché parto dal prosupposto pian piano l'obiettivo è quello di migliorarsi ci stiamo riuscendo con molta umiltà dobbiamo volare in alto ma sempre a bassa quota nell'interesse che comunque provarga sempre quell'umiltà che ci ha sempre contraddistinto noi non diremo mai che siamo i migliori ma sicuramente non siamo secondi a nessuno questo che sia chiaro c'è una squadra rotta il rispetto dentro questo momento c'è l'associazione Bimenti Uniti la Proloco l'UNAC e altre associazioni del mondo del volontariato che adesso qui non ricordo bene non riesco a citarle però a cui va il mio ringraziamento perché per garantire e per mettere tutto in sicurezza ci saranno delle vigilanze notturne per tutte queste attività c'è gente che lavorerà anche di notte anche dopo lo spettacolo ringrazio la TLS che sta realizzando che sta montando un palcoscenico delle grandi occasioni tutto ciò sempre e comunque di rendere magica questa borgata io vi ringrazio vi ringrazio naturalmente vogliamo anche la vostra collaborazione nel cercare di sporcare il meno possibile questa borgata mantenerla più pulita voglio la vostra collaborazione anche per gli ingressi in questa borgata cercate di parcheggiare in maniera civile e non lasciando le macchine in uno stato di abbandono per dare opportunità agli altri di parcheggiare non mettete non parcheggiate dove ci sono gli spazi adibiti per diversamente abili cercate di rispettare anche gli ambienti dei bagni dei locali della scuola questo significa chiediamo solo il rispetto il rispetto delle regole naturalmente vi invito sempre a mantenere le distanze sociali che sono quelle anti-covid grazie e l'appuntamento è a domani in quel di Borgata Costiera per una tre giorni anzi per una cinque giorni perché dopo la vista del pane della pasta ci sarà anche stato l'Otoro Festival ma la mostra mercato continuerà per cinque giorni siamo certi che vi sorprenderemo con effetti speciali grazie grazie grazie